Questa notte sulla 2 si è verificato un incidente poco dopo l'uscita di San Manco, Piemonte. Un 22enne di Mercato San Severino ha perso il controllo della sua auto in direzione Salerno, andandosi a schiantare contro il guarda rail. Sul posto la croce banca e gli agenti della polizia stradale. Il giovane era incastrato nell'abitacolo. Solo dopo vari tentativi è stato estratto dall'abitacolo e trasferito per accertamenti all'ospedale di Salerno. Le sue condizioni sono apparse subito non gravi. Sono stati effettuati a ruggi anche gli esami per verificare l'assenzione di alcolici. Grazie a tutti.